Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene, facciamo, mandiamo avanti questa rubrica con le domande su tarò il calendario. Sono importantissime queste domande, perché io ritengo che in tutte quelle situazioni dove dobbiamo passare dalla teoria alla pratica, sia necessario essere inquadrati in un certo modo, avere una persona che ci segua, soprattutto perché è funzionale alla nostra riuscita. Sai, alla fine finché si tratta di leggere il libro va benissimo, ognuno si forma un'idea, ognuno inizia a pensarla in un certo modo, che non deve essere necessariamente condiviso con l'autore, però proprio nella parte pratica, che una persona dovrebbe essere seguita, perché la parte pratica metterà sicuramente in evidenza quelli che sono stati dei blocchi, delle dinamiche che non abbiamo capito e via dicendo. La domanda di oggi è di Martina, io me le scrivo perché a volte sono lunghe, poi nel caso anche di Martina c'è stato un botte in risposta, non avevo capito bene, perché lei mi chiede, succede qualcosa di atipico, sono entusiasta del lavoro con il duo, ma non raggiungo l'obiettivo del mese. Ora, questo tipo di domanda è sempre molto generico, molto vago, perché, che vuol dire non raggiungo l'obiettivo del mese. Allora ho chiesto un attimino qualche informazione, sempre per email a Martina, e quello che mi è stato risposto è che Martina ha cercato di andare, cerca di andare in profitto grazie alla vincita delle aste immobiliari. Allora, perché si manca questo raggiungimento dell'obiettivo? I problemi potrebbero essere tantissimi, lo ripeto, lo sottolineo, la mia risposta non deve essere necessariamente quella corretta, la mia risposta magari ti permette di avere un punto di vista diverso. Inoltre, quando fornisco queste risposte, do per scontato che tutte le altre direttive del calendario siano già state eseguite, quindi escludo a priori la possibilità che un problema sia risolvibile da ciò che si trova intero il calendario. Quindi, se anche questo dubbio si innesta all'interno del mio processo di risposta, allora l'obiettivo è sbagliato. O meglio, è la natura dell'obiettivo di Martina e di tutte le persone che hanno lo stesso problema di Martina ad essere sbagliato. Perché tarò il calendario prevede che il grande lavoro venga fatto su di sé, e non su cause esterne o situazioni che devono convogliare più energie, più variabili. È proprio così, cioè un investimento, una partecipazione agli utili, le aste sugli immobili, prevedono troppe variabili e in queste variabili ci sono anche altri esseri umani. Questa cosa è importantissima perché se ci sono anche altri esseri umani, e noi non possiamo andare contro oppure sopra l'intenzione di altre persone. Credere di poterlo fare solo con la forza della mente o perché noi lo vogliamo, perché attraiamo chissà cosa, no, quello è l'ego, ma è la versione negativa dell'ego. Questo non è possibile. Immaginati per esempio un'altra situazione. Tutte le persone, paradossalmente, contro ogni statistica, dentro la sala dell'asta, stanno utilizzando tarò il calendario. E che succede? Scoppia la sala? Allora il problema come si risolve? Si risolve risalendo alla sorgente del problema stesso. Perché vogliamo andare in profitto con l'asta immobiliare? Cioè, aneliamo il profitto? E allora siamo sicuri che è proprio l'asta immobiliare che ci serve? Oppure l'asta immobiliare è la cosa che ci hanno insegnato a fare? Quindi crediamo che possiamo andare in profitto solo così. Inoltre, ricordati sempre, mi sta venendo in mente anche questa cosa, il profitto fino a se stesso, il soldo fino a se stesso non può mai essere un obiettivo. Il soldo è sempre un'energia, un canalizzatore, ti permette di... Non può mai essere un obiettivo. Oppure il tuo obiettivo è proprio la vincita. Vincere le aste immobiliari. Ma la vincita che cosa nasconde? Che sei una persona che cerca una scarica di adrenalina e quindi la potresti trovare anche in altri modi. Ecco qui, tu devi risalire alla sorgente, alla tua vera natura dell'obiettivo. Inoltre, se immancabilmente lesci l'obiettivo, devi entrare forse nell'ottica che il problema è l'obiettivo, non il modo con cui cerchi di raggiungerlo. Scava, scava, scava e lavora in tal senso. Addirittura un buon lavoro su di te e quindi da fare con il calendario può essere proprio questo. Cioè, qual è il mio obiettivo? Qual è la natura del mio obiettivo? Invece di chiedere poi altre cose, come andare in profitto sugli immobili o via dicendo. Come sempre, spero di essere stato utile a Martina, ma anche a tutti, tutti i lettori che possono avere in qualche modo dei dubbi molto simili. Se anche tu hai un dubbio, scuolatdm, chiocciolascuolatdm.com oppure puoi metterlo anche qua nei commenti, decidi tu. Infobox, trovi un link, shh, segreto. Lo clicchi e lo scopri. Besitos! A presto!